ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi voglio registrare un video un po' particolare, un po' speciale e se sei curioso di vedere da dove mi ha partito l'idea per questo video, leggi la descrizione ok, allora oggi voglio pulire un pochino con voi il mio microfono ho pensato, cavoli ma questo microfono ha quanto un anno, un anno e mezzo non l'ho mai pulito, non l'ho mai svuotato, non l'ho mai tolto tutti i trigger ormai avrà la memoria piena, no? questo microfono voglio migliorare il suo performance togliendogli un po' di peso quindi è ciò che farò andrò un po' pulirlo ho qui delle pinze per aiutarvi al meglio e ho anche delle forbici per aiutarmi a tagliare un po' quelle un po' più difficili insomma da staccare ho anche un pennello per pulire un po' per pulire un po' per fare un po' di pulizia e infine ho anche un bettina perché mi permetterà di prendere più trigger alla volta in questo modo quindi insomma speriamo che questa pulizia funzioni un pochino e tiri fuori un po' di trigger che sono qui dentro penso che poi questo microfono abbia registrato comunque assorbita dei suoni anche quando non registrava quindi potranno uscire anche dei suoni che non sentite da un po' o magari di vita quotidiana non so veramente cosa posso uscire da qui e sono curiosa di scoprirlo insomma insieme a voi quindi tutti pronti? andiamo a scoprirlo insieme ok? ok allora poi per te ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua proviamo un attimo con il bettina ecco qua 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 ok penso che ora andrò un pochino a tagliare magari dei trigger che sono semplicemente qualcosa di sottofondo o qualcosa di leggero che però disturba un po' il suono anche senza che noi se ne accorciamo quindi vado vicino al microfono e provo un po' a tagliare lì via ok 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 Grazie a tutti 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 Buon Grazie a tutti Buon Grazie a tutti Grazie a tutti